Quinto giro per massimo 28,68 Andrea 35,6 Alex 28,86 Maurizio 39,80 Cefaro 32,67 Ma che sverniciatura ha messo io Attenzione, attenzione, rientrati in gara anche Davide Attenzione, attenzione Preferisci metterti qua Davide? No Intanto sono tre minuti di gara Due minuti rimanenti Settimo giro, massimo 27,31 Alex, sei finito Arrivo Alex 29,14 Lorenzo 30,01 No, Lorenzo 29,54 Maurizio 30,01 Cercami 29,07 Andrea che sei tu chiedi? Davide 30,66 Davide 30,66 Davide 30,66 Davide 30,66 in arrivo Alex novide 28,37 eccolo, 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 eccolo 29,25 Alex Maurizio 28,86 Cesare 28,94 Lorenzo 33,29 in arrivo Alex Alex 31,49 Maurizio 29,56 Maurizio 29,49 Come salta il furo, c'ha le donne che stanno svolattando come collate Lì si è tagliata Lì, guarda che bello sta facendo undicesimo giro al massimo 27.53 Maurizio 28.31 sta scalendo il tempo ragazzi ultimo passaggio sta nel tempo per Massimo Pezzilli Maurizio Pignatta Alex Scanavino Cesare De Conte Lorenzo Pezzilli Davide Bertolino che comunque è qua tema e anche Andrea, gara terminata grazie